Lago di Gero. Siamo arrivati. Ok, siamo giunti al Lago di Gero. Siamo arrivati. No, non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. Vai a prendere il battaglio, vieni là! Questo è il mall, pieno di olivi. Mi sta venendo un po' di famiglia. Guarda che bel fiume! È succo! È un prato! Oh, il garibaldi! E questo è il centro di Iser, è carino. Poi abbiamo trovato una bella giornata, fantastico, pizzeria, arriviamo, si, grazie. A posto così, grazie, si. Io ho preso la pizza, è buonissima, e avevamo ancora fame per le zucchine stavolta, è stata buona questa pizza, la focazza, la pizza, è buona, sembra fritta tantissima, però è buona, è più buona del latte, è buona, poi mi piacciono le zucchine, approvatissimo. Ciao! Beh, qua siamo a Lover, che è uno dei 10 borghi più belli d'Italia. Ciao! 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 Grazie a tutti. E quello è il santuario. Bello. E adesso ci arriviamo velocemente. Arrivati. Entriamo dentro. Bella. Che figo. Chissà quanto deve essere complicato. Stipendo. Non sono sicuro se possa riprendere dentro. C'è una suona che mi ha guardato malissimo. Davvero, davvero, davvero bello. E il vero problema di questa chiesa è che non riesco a tocco a farla. Suppongo che questo sia un museo. Che c'è Canova, AIDS. Poi c'è Mario Stupani. Boh. Adesso vado a vedere. Praticamente è l'Accademia Tadini. In cui c'è tipo scuola di musica. E tipo una galleria d'arte. Ci ho capito bene. Però a pagamento per qui. Notte. Quello lì. Quello bianco. Luffo della neve. Questa qui è un gallo cedrone. I funghi. E questo è un afilo. Che mangia un coniglio. Povero coniglio. E qui ci sono tutti i minerati. Questa è una collezione che ci è stata donata al suo tempo da una persona che ci aveva in casa. C'è un po' di anni fa. No, no, no. Un po' di anni fa. Io e da poco ci sono. Abbiamo lì ancora un'aquina. Anche quella è una donazione. Però dovremmo... Bisogna trattarla perché poi si creano anche degli acari internati. In questo punto. Solo che bisognerebbe metterla un due mesi in una cella a fiorifero e poi... Siamo venuti a tutti gli acari. E poi trattare. Abbiamo anche... Non so se volete le audio-guide o... Ah, perché ho visto che ci vuole un'app per il cellulare. No, qui probabilmente. Andiamo qua, sì. Come è? Troviamo invece uccelli dell'ordine dei falconi forni. La villa reale ha una nuvezza di 75-86 cm. Bello il museo. Era gratuito, bastava firmare. Belle queste cose. C'erano i settimi mammiferi. Beh, ma alla fine l'avete visto nel video. Quindi, cosa ditte? Adesso, prendiamo a casa.